Ragazzi, bentornati su Rainbow Six Siege con Quedosho Server 2 Adesso vi faccio vedere una cosa, perché sennò non ci credete Scegliamo modalità realistica in modo tale che tutto sia estremamente impegnativo Perché l'ultima volta, senza particolare sforzo, siamo riusciti a portare a casa una vittoria schiacciante Io non so con che modalità ci toccherà giocare, spero non protezione ostaggio perché noi non siamo bravissimi Protezione ostaggio... Ma difficilissima è impossibile Allora io direi di metterci nella stanza degli impiegati Vai, stanza degli impiegati Io ho Mozzi, lui lo chiamano Mozzi perché praticamente quando andava in bar spegneva i mozziconini in faccia al barista E da lì Mozzi Ok, ti ricordi come si gioca? Sono bravissimo a giocare a Rainbow Six Rinforza tutto quello che puoi rinforzare No, ho sbagliato Perché? Perché ho messo una roba che non dovevo mettere dove... Vabbè Occhio, sento, sento gente I parassiti gli lancio, dove stanno? Parassiti ha posizionato Ho lanciato i parassiti Ah, 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 sto morendo però Aiuto Sono stato ucciso T'hanno segato Missione fallita Ma realistica Proiezione stagio realistica è fondamentalmente impossibile per noi Siamo già scarsi No, non è vero No, decido io perché la tua cosa è una merda Facciamo l'ufficio dei cassieri che sono pochi ma buoni Dai, io prendo Alibi perché attiva degli ologrammi di Alibi Dei carabinieri Alibi Sì, però hai visto che berrettino e che sciarpa riporto Ma è appunto il corpo carabinieri Alibi Che è successo? Chi ha fatto zomba tutto qua? Ti stanno già sparà Ma proprio davanti alla porta dove mi mette l'ostaggio Ma non ce l'ho messo io l'ostaggio Spostalo L'hanno visto Mostrano già dove stanno Spostati Spostati Non ci abbiamo una barricata Qualc'ho Questo c'ha problemi Riempirò questo posto di finti soldati Vediamo se avranno il coraggio di entrare Ma chi è che sta a fa zomba già i pe... Porca miseria Porca miseria Prima no, eh Chi è morto Sei morto tu Siamo io e te Chi vuoi che sia morto? Sì, però erano fortissimi, eh Disinnesco! No Come no? No, disinnesco Dobbiamo andare a disinnescare Non ce la faremo mai Sono due bombe, giusto? Questa l'ho trovata Però non me la segna Trovata una No, l'avevo trovata pure io Eh, ma forse tu hai trovato la B Mi ho trovato la bomba A Ma dove sta la bomba A? Ah, sta in queste... Io penso che forse salire dal tetto sia la soluzione migliore Tu stai salendo? Sì Sono sul tetto Occhio Lo sai che qua Quando mettiamo a disinnescare Succede un macello, no? Porca troia Ok Che facciamo, disinneschiamo? Aspetta, aspetta, aspetta C'erano Puliamo un po' meglio, dai Puliamo un po' meglio Ma perché non muore? Ancora 45 secondi Madonna Ma vaffanculo Ti è arrivato quello bardato Morto Ho trovato il disinnescatore Porca troia No, è tosto questo, eh Non è facile Eliminazione Almeno un round lo proverei a fare To protect and serve Sì, to protect and serve Ma quindi siamo già partiti con la festa? Festa estrema, qua Io sto a 13 Mi stanno bullizzando malissimo No Mi ha colpito Mi spai, fermo Bravo No, eh, non morirmi, eh Piglia tutto e pallina Piglia e pallina Porca di quella puttana A me dispiace Mi dispiace perché poi tutti pensano Che noi siamo scarsi a giocare La verità è che facciamo di proposito Delle cose sproporzionate Ma non è vero niente, ragazzi Che siamo scarsi E lui più di me perché Una cosa deve fare Ma una cosa deve fare Non riesce proprio Andiamo Ma stiamo andando insieme Dove sei tu? Sto pulendo un po' di gente qua intorno Arrivo Aspetta Ma tu stai al piano di sotto, però Non sta a cuore, sta a giallo Ah, però, porca troia Provo a salire Caricatore a secco Non so dove cazzo sa Posso salire Ah, qua Arrivo Ricarico Ti vedo, ti vedo Vengo io da te Sto arrivando Andiamo Sta in coda all'aereo No Eh, stavo Guarda Guarda È solo perché Non voglio riniziare la partita In matchmaking Ma F5 Era lì lì F5 era lì lì Eh Ma mi sei passato davanti Stavo sparando alla bomba Certo Ma per senso Io stavo sparando alla bomba Sul muro Mi sei passato davanti A cazzo Quei bastardi sono nostri Quei bastardi sono nostri Dai, dai che ce la fai Vai a prendere il cazzo Che ti prega Ma senza morire Eh, la madonna È centralizzato Ragazzi Come al solito Vi facciamo vedere Il riscaldamento Prima di iniziare a giocare Passo Direi Questo Questo è stato Il team kill Più Più perfetto Dell'universo Cioè era una frazione di secondo Nella quale io avrei sparato A quella cosa Tu sei passato esattamente In quella E non solo T'ho preso in testa Ma ho rotto anche la bomba Quindi sono passato attraverso La tua testa Riproviamo? Ragazzi Bentornati su Quello sul server Oggi vi facciamo vedere come Era solo un riscaldamento Quello di prima E abbiamo fatto per Insegnarvi come si gioca Questo gioco Questo gioco Questo gameplay Lo chiamerei Il riscaldamento è importante Dobbiamo trovare lo stagio Mo se stai Allora io mo rimango giù Anzi guarda Mi nascondo dietro il camion dei pompieri Sarò Pressoché invisibile Ma qua è un problema Eccolo Trovato Ma sta pieno di gente Eccomi Andiamo Ragazzi non sarà facile Non illudetevi come al solito Ma non sarà una passeggiata Ma perché vai usare un'altra Zipippo qua Uso zipippo perché non voglio rischiare di ritrovarmi Ok la prossima zona è relativamente tranquilla Venite fuori Nooo E dai cristo È stata tutta colpa mia Attaccante neutralizzato Ragazzi ci vediamo al prossimo gameplay Dai vi facciamo vedere anche come funziona dopo il riscaldamento E se proprio Non è proprio cosa oggi Non è cosa Non è cosa Prossima partita sicuramente meglio Grazie